Allora, questi sono due gemelli che hanno avuto, diciamo, un vissuto differente, malgrado siano nati dalla stessa madre. Dopo 40 anni, una aveva delle sequenze genetiche completamente diverse rispetto all'altra. Questo significa che la genetica muta, cambia, anche in base alle esperienze vissute. Questa è una cosa concreta, questa, eh? Questo è un, questo è stato pubblicato nella rivista. Allora, scoperte indicano che il modo in cui una madre alleva il bambino ha un effetto sull'attività dei suoi geni. Ci sono tantissimi esperimenti che hanno fatto negli anni 50, in un'orfonotrofia in particolare, questi li trovate anche su internet, hanno allevato dei bambini senza affetto, in modo freddo, asettico. I bambini sono morti tutti, erano oltre 80 bambini. Mentre in un altro orfonotrofio, con cura e affettività, la longevità di questi bimbi è stata migliore. Ora, io non lo dico mai perché noi non abbiamo etichette, comunque Domenica è una nutrizionista molto importante. Ha fatto tanti, tanti convegni, ha fatto tanti... Ha fatto tantissimi convegni in Giappone, in Brasile e vorrei che concludessi tu e poi Pippo canta una canzone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.